Tu non saprò mai come ricompensarmi, però mi chiedetemi qualunque cosa. Un bicchiere d'acqua. Ma no. O la caro, mi chiedi di ciò, non lo alza. Ecco qua, bevete. Grazie. Bartolomeo? Eh, Bartolomeo, perché piace? E va bene, ma non bisogna risperare, Bartolomeo, mamma mia. Io te le sono andate, Lorenzo. E spavano andate. E vede che da un momento l'altro sei rotto. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Che c'è? A un amico. Chiedo di rivedere un suo amico che conobbe il ricovero durante la guerra. Chiari. Voi non lo potreste fare. Lo ricovero? No, la mia. Ma se non lo so, se riusciremo con voi di qui. Dobbiamo. Dobbiamo riuscire un sentimento di condannato, quelli. No. Ma no, no. Come si chiama questo? Lorenzo Botte, non si chiama. No, va bene. Lorenzo Botte, se ci avete... Che ne fa? Eh, ovviamente, ma non così. Quello Lorenzo Botte è un galabinire. Si potrebbe... Ho pensato. Toglietemi da gioco. Che dove... Andiamo un po di troppo. Ecco, andiamo un po... Ah, è mi tetto scusciare. E la gi legally. Tre, tre italiani. Pre, Norettore, troveri, Torettore, troppo... Pre, procedure... ...tre è doletto, grazie! conseggeri, sneggeri, vai! Pre e vedi, ne puoi cambiare, dicono senzio, fra l'occasione un po' i miei carini r bands. ... ... ... ... ma non mi smacchò, innanzitutto questa è una sciocca Grazie Grazie a tutti. 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 Dovere mio. Come... e... No, 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 no. Grazie.